Ciao a tutti, io sono Sofia, bentornati e benvenuti al mio canale. Oggi vi andrò a parlare di un prodotto con il quale mi sono trovata super bene. Vi sto parlando delle cuffie bluetooth della M-POW. Vengono in una scatolina così, le quali si aprono ed eccole qua. Ovviamente stavano dentro una bustina. Io le ho tolte perché le ho già utilizzate, oramai sono un mese che ce le ho. E qua ci sono gommini di ricambio, se ne perdete qualcuno o comunque volete cambiarlo perché si sono rovinati. E una pinzettina per appoggiarla. Premessa, io non sono una fan di questi gommini che entrano dentro l'orecchio, mi danno davvero fastidio. Normalmente ho sempre usato le cuffie del telefono, ma comunque non sono bluetooth e volevo un paio di cuffie bluetooth. E le prime che ho comprato erano appunto così come quelle del telefono, però bluetooth, quindi senza gommino. Mi si sono rotte nemmeno dopo due settimane. E quindi ho comprato queste. Adesso ve le faccio vedere. Per alzare il volume, per stoppare o mettere pausa e per abbassare il volume, si ricaricano semplicemente con la presa USB, quindi anche con il caricatore del telefono. Hanno una calamita, perché quando le mettete intorno al collo, questa parte va a destra e quella senza niente a sinistra. Quando le mettete nel collo, per far sì che non cadano, si uniscono semplicemente a calamita e rimangono tipo collana. Si inseriscono semplicemente e ovviamente potete regolare questo aiuto, perché questo andrà dentro la parte del vostro orecchio. Ora ve lo faccio vedere. Vedete? Così. E devo dire che sono ultra comode, appunto proprio perché io ho sempre odiato il gommino. Queste sono davvero morbide e poi questo aiuto che non fa scivolare le cuffie, devo dire che è fantastico. Mi sono trovata benissimo, infatti ve le straconsiglio. L'audio è perfetto. E dentro trovate anche il cavetto per ricaricarle. Ci sono di diversi colori, mi ricordo che c'erano sia grigie che bianche, però quando le ho comprate io erano finiti. Però comunque le avrei prese nere, perché io e il nero andiamo molto d'accordo. E ripeto, mi ci trovo davvero benissimo. Non mi danno fastidio nemmeno quando sono appoggiata sul cuscino. Non cadono. Veramente, mi ci trovo un sacco bene. E credo che sia carina anche la scatoletta, non lo so, è molto comoda. Infatti me le porto sempre dietro, cioè non vivo senza le mie cuffie. Se le volete acquistare, troverete il link qua sotto in descrizione. Se le acquistate, fatemi sapere qua sotto in un commento come vi siete trovati. E quindi niente, vi mando un grandissimo bacio, un grandissimo braccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!